Per cui fallo pure, non so se lo faccio a Gabriella. Sì, vi lascio con un'ultimissima considerazione con Gabriella perché ci teneva molto. Si è discusso tanto della fede, Sebastiano ha detto la fede di Liliana, l'abbiamo ritrovata io e Gabriella, poi ha dato anche un'altra versione, come è andata questa cosa? Io credo che siamo alla sesta, settima versione. Bene, allora io lo confermo, ho già detto pubblicamente, che io con Sebastiano nel cassetto di Liliana non ho trovato nessuna fede né nella scatoletta né nella bustina né gli ori né niente perché tutto era, non lo so la fede perché io non cercavo la fede, logicamente perché non sapevamo neanche dove era Liliana, era tutto nel portagioie sopra il comò e l'ultima cosa che volevo sottolineare e che Sebastiano adesso tra vuoti di memoria, l'Apsus o l'età, non lo so, comunque insieme abbiamo trovato un quaderno rubrica dove ci sono scritti tutti i codici bancari, non so di che conto perché non è che mi era, e tutti i nomi che lei aveva trascritto, penso delle persone che conosceva, soprattutto quello che probabilmente, visto che lui non tocca niente da due anni, probabilmente l'agenda sarà ancora là. Eccoci, allora salutiamo Gabriella, la ringraziamo e ci spostiamo verso il boschetto perché oggi, ricordiamolo, è il giorno ovviamente di Liliana, due anni dal ritrovamento della povera Lilli, purtroppo senza vita in quel bosco dell'ex OPP di Trieste. Andiamo. Allora parliamo di Sebastiano, Edoardo, ti dico però questo per correttezza, anche Sebastiano, se non sbaglio, ha chiesto la riassumazione del corpo, giusto? No. No? Sebastiano chiedeva la cremazione della moglie. Non hanno chiesto gli avvocati la riassumazione del corpo? Non è contrario, ma attende per poter fare la cremazione. Non è contrario, però? Attende che si finiscano questi accertamenti. Non l'hanno chiesta? No. Con voi? Non l'hanno richiesta? No, no. Questo è un passaggio importante da sottolineare. Anzi, è ribadito ultimamente che lui attende che facciano questi ulteriori esami per dopo poterla cremare. Questo è quello che lui ha detto ieri, l'altro ieri, in altre trasmissioni. Sebastiano, dopo la decisione della procura di riassumare il corpo di Lilli, ci ha concesso una intervista dove ha parlato di tanti elementi, di tante cose e tanti punti, ovviamente, tante nostre domande, le domande del nostro Edoardo Lucarelli. Parla di Claudio Sterpin e poi parla anche di Sergio, di te, Sergio. Per cui ascoltiamo. Per me questa risonazione è atroce, perché comunque dopo due anni questo corpo cosa può dire? C'è un fronte che sembra abbastanza compatto, il fratello Sergio, Gabriella, con cui eravate molto amici, Claudio, che però continuano a puntare l'indice verso di te. Ma questi sono affari loro. Io, per carità, è un anno e mezzo che comunque vengo accusato di essere l'assassino e mio figlio, il compice. Per carità, io ho niente da nascondere. Cioè, quello che mi devo preoccupare è quello che dirà la procura, non certamente quei parenti o amici o pseudo. Sono due anni dal ritrovamento di Liliana. C'è qualche cosa in questi due anni che non rifaresti, che ti rimproveri? Ma assolutamente no, perché comunque era drammatico per me. Io ho subito questo colpo veramente in maniera pazzesca, perché la mia mente, il mio corpo hanno reagito, diciamo, pesantemente. Cioè, io il primo mese ricordo poco e niente. Quando si dice una cosa, bisogna provare quando si dice una cosa. Parli di Claudio in particolare. Ma no, guarda, non voglio neanche nominare questo signore, per carità. Ha fatto del male, soprattutto a Liliana, perché ho chiesto tante volte di lasciarla riposare in pace. Tutte queste cose che sta dicendo non sono belle cose. Le cose che sta dicendo sono quelle di Claudio, al di là, insomma, di questa relazione. Ma Claudio chiede verità. Che cosa dice Claudio di particolare? Certo, ma anche perché quello che dice Claudio ha trovato riscontro. Perché, per esempio, io non capisco perché non bisogna credere a Claudio quando dice che nella telefonata delle 8.22 Liliana gli avrebbe detto che andava alla Wind di via Battisti. Ha avuto un riscontro questo, il racconto di Claudio, perché la macchina di Claudio viene poi individuata dalle telecamere, dalle indagini successivamente, davanti alla Wind di via Battisti, dove lui è andato a cercare Liliana. Quindi, e voglio dire una cosa, astrattamente quella mattina Sebastiano e Liliana per due volte sono nello stesso luogo. Perché alle 8.22, quando Liliana fa la telefonata a Claudio, alle 8.16, quindi precedentemente, la macchina di Sebastiano viene individuata da un sistema di rilevazione targhe in quella zona, quindi via dei Marchesetti, angolo via Forlanini, che è nei pressi dell'abitazione. Alle 8.24 le sue celle agganciano via San Pelagio, via dei Marchesetti, che sono le stesse celle che agganciano il cellulare di Liliana. Dopodiché, quando Liliana va in via Battisti e non abbiamo motivo di non credere a questo, le celle del cellulare di Sebastiano agganciano alle 9.04 via Carducci. Quindi è il secondo momento di quella mattina in cui queste due persone sono nello stesso luogo. Perché via Carducci è praticamente all'angolo di via Battisti. Dopodiché, Sebastiano dice da lì di essere andato alla galleria di via Rossoni, alla pescheria della galleria Rossoni, in Corso Italia, ma in realtà abbiamo una sit della commessa che lavorava lì in quella pescheria che nega di aver visto Sebastiano quella mattina. Anzi, dice che quando arriva lei alle 7.50, i coltelli erano già affilati e i coltelli da restituire per l'affilatura erano già stati prelevati. Per cui Sebastiano è andato il giorno precedente. Pertanto, da lì in cui viene localizzato alle 9... Queste cose, secondo voi, non sono state controllate, Baldi? Perché le indagini sono partite subito per suicidio e quindi chiaramente ci sono stati una serie di errori più o meno involontari, nel senso che quando poi si decide di indagare in una direzione, quindi sono stati fatti degli errori clamorosi. Ora, riascoltiamo altre parole di Sebastiano su Claudio e anche su il fratello di Liliana. Chiedevo a Sabella se secondo lei, insomma, nelle indagini qualcosa è mancato, qualche aspetto, qualche... non so, amministrazione. Non mi permetto di andare a fare le pucce al lavoro dei miei colleghi. Avranno fatto, per esempio, non capisco e vorrei, mi piacerebbe tanto sapere da cosa nascono quei 5 minuti di spalzamento delle telecamere, perché normalmente, questo capita, perché le telecamere non sono, se non sono soprattutto collegate con sistemi informatici, con il web, capita che arriva il poliziotto, il carabiniere, prende le immagini, verifica l'orario riportato in quel momento dalla telecamera, controlla il suo orologio, dice c'è uno sfalzamento di 5 minuti, di 4 minuti, di 8 minuti. Il problema è che questo sfalzamento dovrà riguardare uguale due telecamere, mi pare, appartenenti a due server, due gruppi diversi. Quindi questo è un caso abbastanza singolare. Non è vero quello che si è detto, che le indagini sono partite subito per suicidio. L'ipotesi del suicidio mi pare che sia nata un po' successivamente, anche se l'aveva adombrata fin dalle prime battute il marito di Diana. L'indagine è stata scritta per 605, non per istigazione al suicidio, per il sequestro di persona diciamo all'inizio. Per cui, poi che si siano evolute in una determinata direzione, guardate, purtroppo il lavoro degli investigatori è un lavoro complicato e difficile. Non so se ci siano stati degli errori nella vicenda. Certo è, l'ipotesi del suicidio con quelle modalità è un'ipotesi abbastanza rara, abbastanza anomala. Tutto quello che c'era intorno a Liliana, come giustamente avete detto tante volte, non lasciava rappresentare un'ipotesi di un suicidio o un suicidio tra l'altro con quelle modalità. C'erano delle perplessità che io avevo esposto sin dall'inizio sull'alibi fornito dal marito. Però da qui a poi a ricostruire, andare ad affermare penale responsabilità ci vuole tanto. E lo ripeto, la riassumazione, o gli inquirenti hanno qualcosa di veramente specifico che stanno cercando di acquisire dall'esame autoptico, ma l'orario della morte certamente non ce lo verrà a dire la riassumazione col margine dei pochi minuti di cui stiamo discutendo. Quel margine tra l'altro nemmeno in fase di autopsia emerge con certezza il margine di minuti. Si parla sempre di un margine massimo mezz'ora, tre quarti d'ora ma non di meno. Le tecniche non permettono di arrivare a una precisione esatta dell'ora della morte. Grazie Isabella. Penso molto più probabilmente però l'ultima cosa che la riassumazione sia un mezzo in qualche modo per riaprire le indagini. Per avere una ragione per rivalutare tutta una serie di elementi che probabilmente erano stati valutati in una determinata direzione e rivalutarli in altro. Questo sulla base di quella che è la mia esperienza mi sento di poterlo dire. Allora vedo il nostro Edoardo Lucarelli che sta con Claudio Claudio Sterpin Ciao e adesso e Silvia Silvia Radin che è la cugina di Liliana e nonostante le tante voci sulla relazione di Lilli con Claudio Sebastiano ha definito in questa intervista che tu gli hai fatto Edoardo ha definito il suo rapporto con Lilli una meravigliosa storia d'amore Ascoltiamo Questi 32 anni vissuti con Liliana sono stati io penso le cose più belle che un uomo può avere dalla sua donna dalla sua anima e sono cose che nessuno mi potrà portare via Una ciambella di mele soffice e alta vediamo che viene fuori Io ho vissuto con Liliana una storia una vita d'amore altissima grandissima nella gioia e nel dolore capisci abbiamo passato momenti difficili per tanti motivi soprattutto quando è morta mia figlia quando è morta la mamma di Liliana Allora tutto questa e queste dichiarazioni vorrei che rispondesse Claudio e Silvia Radin a te Edoardo Eccoci Claudio hai sentito cosa ci ha detto Sebastiano come commenti lui potrà avere in parte ragione ma tutto l'idilio di cui lui parla è finito molti anni fa anziché l'altro ieri come intende dire se fosse appena un poco più onesto potrebbe confermare che l'amore di cui tanto parla fra lui e Lilli è finito ma probabilmente più di 5 anni fa comunque diversi lui ha vissuto attaccato Liliana giustamente ma io l'ho dichiarato più volte in polizia con Lilli non mi sono mai mai perso di vista nella vita questo vuol dire che saltuariamente come che si vuole ma noi ci trovavamo a prendere un caffè a farci gli auguri per gli ispettivi compleanni per le feste eccetera da 40 anni ininterrottamente o quasi lui è stato molto molto severo ha detto che tu non hai portato o non stai portando rispetto a Liliana raccontando quello che stai raccontando invece io sono convinto che a Liliana in questo momento le faccio un piacere enorme perché lei aspettava questo momento di poter dire ai parenti tutti e a tutte le amiche della nostra relazione lo avremmo fatto sicurissimamente dopo il 20 di dicembre lei era proprio gongolava è una parola giusta no per essere sincero non sapevo Sergio eh? no nessuno lo sapeva probabilmente benissimo e dopo però ma sapevi che c'era una crisi matrimoniale rispetto che c'era una crisi matrimoniale rispetto a quanto sta dicendo Claudio tu eri informato non ti aveva mai detto nulla no io ho capito e l'estate prima proprio che le sparisse che qualcosa stava cambiando da quando mi metto gli ho chiesto cosa fate per le vacanze andiamo nuovamente in Grecia e gli ho detto ah beh va bene ma sono stufa non vado più questa è l'ultima volta e gli ho detto boh boh ancora sto tempo e via sì per fortuna è solo una settimana ecco questo mi ricordo bene ha detto questo professoressa Giannini sono parole insomma di una persona che non ha piacere ad andare in vacanza con suo marito ma anche se va detto che le prospettive che si assumono quando le realtà le relazioni affettive diventano così complesse sono naturalmente diverse da persona a persona non possiamo affatto escludere che il marito o l'altra persona eccetera cogliessero degli aspetti diversi e si difendessero da una realtà che magari era effettivamente intollerabile dolorosa per loro quindi direi che dobbiamo prendere in considerazione oltre al al mentire eccetera ma anche psicologicamente che cosa le persone colgono noi sappiamo benissimo che molto spesso quando le relazioni si rompono e uno dei due non vuole non tollera magari non riesce a vedere non vede quello che nella realtà dei fatti invece accade cioè che l'altro si sta distaccando direi che va cotta nella sua complessità Edoardo Sì sul rapporto Silvia la cugina di Liliana ci voleva riportare un dato importante sul rapporto tra Claudio e Liliana sì allora permettendo che è una donna di 63 anni non ha bisogno di andare in piazza o raccontarlo a qualcuno che sta per lasciare il marito prima ancora di averlo fatto perché magari cambia idea che fa e poi volevo dire una cosa siccome la Laura non sta bene non è qui con noi Laura e Pino però se vi ricordate amici della coppia amici di Gonars Laura ho riferito che non mi ricordo l'anno però adesso non mi ricordo Sebastiano aveva telefonato a loro che erano in montagna chiedendo possiamo venire qualche giorno su da te perché siamo in crisi e questo è verbalizzato contestato e riferito e nel video quindi non stiamo dicendo cavolate cose dell'ultimo momento tra l'altro gli scambi continui tra Liliana e Claudio sono testimoniati dalle tante telefonate dai messaggi dalle frequentazioni quante volte perché tu poi hai avuto accesso anche a quei dati hai saputo proprio i numeri voi vi siete sentiti quasi più spesso diciamo di quanto facesse Liliana col marito nell'ultimo periodo o nell'ultimo anno io considero di sì allora gli inquirenti hanno tutte le nostre chiamate telefonate whatsapp compresi io ho preso in considerazione esclusivamente l'ultimo mese dal primo dicembre al 14 dicembre in 14 giorni noi ci siamo sentiti in sette giornate perché le altre sette erano via da Trieste ed era la prima fine settimana e la seconda fine settimana di dicembre l'otto erano a San Lorenzo Isontino ed è il settimo giorno di mancato contatto tra di noi negli altri sette giorni ci siamo contattati al di là dei whatsapp che non compaiono parliamo di telefonate solo 14 17 volte in tutto 17 volte di queste 17 volte 14 lei ha chiamato me e 3 io ho chiamato lei allora il marito ha detto che la terrorizzavo per telefono uno deve essere idiota a telefonare a uno per farsi terrorizzare da lui mi sembra una cosa talmente fuori fuori logica parliamo di logica io ti telefono perché tu dopo mi terrorizzi non vedo l'ora di farmi terrorizzare da te per telefono quindi in quell'ultima telefonata delle 8 e 22 lui dice lei si è particolarmente agitata gli ha detto qualcosa di particolare invece allora non era agitata per niente quell'ultima telefonata è seguita da un messaggio 4 o 5 ore dopo dalla sauna dove erano e il messaggio testualmente dice in relax pensando a domani cos'è che vuol dire? lei mi ha mandato un sms whatsapp sono in relax pensando a domani domani era martedì il vostro impunto pensando al vostro impunto vuole intervenire Mirella Serri e la Marano solo una cosa molto breve Claudio solo una cosa molto breve io ho letto in tante appunto intercettazioni eccetera che Liliana veniva mi pare proprio il martedì a stirare a casa sua mi pare di avere cioè veniva a darle come vi posso dire una specie di intimità e di quotidianità che mi sembra in contraddizione col fatto che lei la terrorizzasse mi pare che il giorno in cui faceva queste cose fosse il martedì ho letto adesso questo è irrilevante comunque insomma c'era un'intimità e una quotidianità quasi come un rapporto matrimoniale parallelo allora sentiamo la Marano io voglio dire questo infatti è stesso Liliana che ci dice che questo rapporto era in crisi e ce lo dice la scienza ce lo dice la consulenza informatica perché ci dice che Liliana stava cercando come divorziare per cui un matrimonio felice è chiaro che se è un matrimonio felice non si cerca come divorziare come divorziare senza avvocato come divorziare in tempi brevi e poi ritornando alle telefonate e ai messaggi tra Claudio Serpin e Liliana Resinovic c'è sempre la consulenza informatica che ce lo dice in un arco temporale mi sembra da settembre a dicembre c'è stato uno scambio di telefonate adesso il lasso temporale non lo ricordo bene però la consulenza informatica ce lo dice che c'è stato uno scambio di telefonate di 1100 telefonate tra Claudio e Liliana e 600 telefonate tra Sebastiano e Liliana oltre a tantissimi scambi di messaggi che inequivocabilmente ci dicono che c'era una storia importante tra Liliana e Claudio Serpin questa questione del laccio è tutto confermato proprio dei tabulati e della consulenza informatica non è che sono cose che abbiamo inventato è tutto confermato questa questione del laccio che poi è stato ritrovato anche in casa di Sebastiano Baldi si è necessaria non è stata fatta una consulenza merciologica per stabilire che sia lo stesso identico cordino però apparentemente lo è e questo cordino è poi un nodo fondamentale perché lì è stato trovato un DNA estraneo maschile ma è stato analizzato è stato analizzato ma purtroppo non è possibile utilizzarlo in maniera diciamo definitiva perché i sacchetti sono stati aperti quelli che erano avvolgendo la testa e quindi questo cordino si è diciamo immerso nei liquidi di composizione e quindi c'è veramente una serie di anche posso dire un po' di sfortuna in questo no un po' di sfortuna ma soprattutto io mi permetto di di confutare quanto ha detto Sabella perché lo sappiamo dal video iniziale cioè da quando è stato trovato il corpo che era stato diciamo considerato un suicidio immediatamente tant'è che infatti l'unica cosa di cui si sono preoccupati è l'identificazione e anche la conversazione che fanno le persone e il medico legale riguardano proprio solo ed esclusivamente un'ipotesi di suicidio allora la malinconia che si leggeva sul volto di Lilli negli ultimi tempi secondo Sebastiano ad attribuire al dolore che provava sua moglie a causa di una malattia sentite è stata uccisa si è tolta la vita che cosa pensi oggi? non c'è una risposta non c'è un qualcosa che può venire fuori finora dopo due anni non c'è niente e allora il dolore cresce perché mi dico ma come è possibile? sì certo un po' di sofferenza l'ho notata queste cose qua però lei soffriva di osso porosi e stava veramente molto male e soffriva molto di questo io tutte queste cose che sono successe negli ultimi giorni negli ultimi periodi con Liliana ho attribuito questo suo stato d'animo a questa malattia io ho ancora gente che mi ferma mi dice guardi io ero sicuro che lei avesse fatto qualcosa a Liliana però col tempo ho capito che lei è una brava persona c'è gente che mi ferma mi ferma qualcuno mi vuole abbracciare qualcuno mi dà la mano comunque io continuo a essere sereno tranquillo non ho niente da nascondere a nessuno e ho la coscienza dentro di me che mi dice che purtroppo Liliana non c'è più aspettiamo volevo dire che posso il fatto dell'autoporosi che dice che lei soffriva io non credo anche perché il medico di Liliana non aveva mai detto che lei soffrisse di autoporosi io so che lei prendeva degli integratori come anche mia moglie ma no che appunto si lamentava a stomale a causa dell'autoporosi non esiste è un'altra cosa che ha inventato che ultimamente fosse così insoddisfatta non stava bene secondo me perché lei ha scoperto che era controllata dal marito da Sebastiano io ho sentito personalmente il medico di Liliana sono andata presso il suo studio e mi ha detto che Liliana non aveva assolutamente problematiche di salute anzi la definisce una tranquillona una donna sempre molto curata molto attenta alla sua salute non mi ha mai parlato di osteoporosi né di medici si lamentava mai di questo di questa malattia Claudio Silvia con me no senz'altro ha ragione assolutamente no ma poi scusate l'ostoporosi non provoca dolori e poi se così forse non avrebbe fatto tutti quei chilometri in bicicletta uno che sta male come dice lui male malissimo ha dolori va in bicicletta tutti i weekend va a camminare in città tutti i giorni ma fatemi una cortesia non sta né in cielo né in terra e poi c'è una cosa che vorrei dire non è vero che lui dice che non si è suicidata se ben ricordate due giorni dopo la scomparsa sto parlando di scomparsa è andato dagli amici a dire Liliana si è suicidata ha regalato biciclette macchine fotografiche usciva da casa con borse e borse di roba dicendo che le portava la Caritas ed è per questo che io ho insistito che Sergio venisse su quel giorno per prendersi i ricordi di sua sorella i quadri i diplomi lui ci ha aperto la cara ci ha chiesto lui di andare su a proposito Leonora di borsa io vorrei introdurre perché l'ha citato prima dimmi 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 ah eccoci rapidamente io vorrei introdurre se sei d'accordo prima di tornare da loro il tema della borsa di Liliana cioè quella borsa di marca ritrovata nell'armadio perché perché noi abbiamo messo diciamo a specchio alcune dichiarazioni che ci fece Sebastiano nell'immediatezza diciamo della scomparsa di Liliana o comunque diversi giorni dopo adesso vedrete con quanto dichiarato da una testimone che ha chiamato Sebastiano proprio o meglio è stata prima chiamata da Sebastiano e poi ha richiamato Sebastiano per sapere della scomparsa di Liliana appena il giorno stesso e poi appena quattro giorni dopo o comunque anche qualcosa di meno comunque veramente nell'immediatezza noi ne abbiamo realizzato diciamo quello che noi chiamiamo un lettering quindi abbiamo riportato alcune dichiarazioni e possiamo se siete d'accordo perché l'elemento della borsa del portafoglio di quello che avrebbe visto lui o meno è decisivo vediamo il giorno della scomparsa di Liliana del 14 dicembre credo fossero state le ore 18 ho ricevuto una telefonata da Sebastiano attraverso il cellulare di Liliana nell'occasione Sebastiano mi ha detto che Liliana era scomparsa chiedendomi se l'avessi vista e che mi aveva chiamato sapendo che io e Liliana ci vedevamo ogni tanto io gli avevo risposto che era da parecchio tempo che non ci vedevamo ricordo poi di averlo chiamato nei giorni successivi per chiedere se avesse novità e gli avevo anche chiesto se aveva controllato se mancasse qualcosa da casa e lui mi aveva risposto di no e che mancava solo la carta di credito mi aveva anche detto che Liliana aveva lasciato il portafoglio a casa e non aveva soldi con sé sono quasi sicura del portafoglio invece sono sicurissima che mi avesse detto che non aveva soldi con sé beh mi sembra un marano sì anche perché lui dice di non aver mai controllato nella borsa della moglie e tra l'altro il 18 dicembre Sergio è in casa e gli chiede hai controllato tutto nella borsa di tua moglie nei cassetti se ci sono i suoi effetti personali se c'è roba di tua moglie che ci può essere utile lui ha detto sì sì ho controllato non c'è nulla il fratello Sergio fa delle foto che ha consegnato in procura che sono geolocalizzate quindi il 18 dicembre nel pomeriggio lui fa questo poi il 23 dicembre viene fatto un sopralluogo dove gli investigatori rinvengono all'interno di quella borsa che è nella foto di ripresa da Sergio rinvengono tutti gli effetti personali della moglie ma voi avete mai pensato all'ipotesi di un mandante? di un mandante? ma adesso io penso anche a questo cioè io penso mi chiedo come mai sino adesso appena cioè appena adesso tutti ascoltano anche me e i parenti gli amici mentre prima avevamo tutti contro si ascoltava solo quello che diceva il signor Vicentino e quello che diceva lui era oro e invece non è così perché adesso che abbiamo tutto il il faldone come è chiamato e abbiamo dei riscontri proprio oggettivi oggettivi su alcune cose che non vi quadrano ma ritorno sull'ipotesi del mandante ma guarda a questo punto Leonora l'alibi di Sebastiano qual è? dove era Sebastiano? il cellulare è spento quella mattina quindi l'alibi come mai lui dice all'altro giornalista di chi l'ha visto ah io ho un alibi perfetto ma chi le ha chiesto l'alibi? ma per cosa? come se fosse preparato a dire una versione che poi viene completamente consultata perché per tre ore il cellulare di Sebastiano risulta spento lui dice che non prende lì dentro in realtà poi nel pomeriggio Sebastiano ci ritorna nel suo magazzino dalle 15 e 15 alle 15 e 45 e il suo cellulare ha traffico telefonico e traffico dati non era che lui era andato a consegnare i coltelli? sì anche quello però insomma lì anche non tutti confermano insomma sì confermano precedentemente alle 9 poi dalle 9 l'alibi di Sebastiano puoi dirmi qualcosa Edoardo? cerchiamo di essere più precisi? ma allora anche su questo diciamo ci sono discordanze ce lo può dire anche Silvia stessa che la intervistammo all'epoca e ce lo può ribadire allora lui ha sempre raccontato per lo meno a noi quella mattina di essere uscito intorno alle 7.40 7.45 per fare il giro cosiddetto delle pescherie cioè di andare a ritirare e consegnare dei coltelli affilati di averlo fatto intorno fino alle 9 e mezza poi di essere andato per un'oretta e mezza a lavorare i coltelli ritirati all'interno del suo magazzino e poi di aver fatto diciamo come sappiamo il giro in bici per provare quella telecamera che aveva comprato e poi di nuovo nel pomeriggio è riuscito però a Silvia quando la intervistammo la prima volta ci aveva raccontato che lui così ci aveva detto ti aveva detto cose diverse certo lui è venuto da me due giorni dopo e mi ha detto cioè dalla scomparsa e mi ha detto abbiamo fatto colazione insieme Leliana ha bevuto un tè ma che colazione avete fatto gli ho chiesto e poi mi ha detto io sono uscito sono tornato a casa per farla breve sono tornato a casa alle 10 e mezza ho lasciato la macchina quindi non ha citato il giro delle pescherie no almeno in quel momento non l'ha detto ho lasciato l'auto a casa ho preso la bici e sono andato giù in magazzino poi a luna e mezza sono tornato a casa ho pranzato ho ripreso l'auto e sono tornato in città quindi differirebbe di molto perché questo ritorno a casa non ci sarebbe stato nel racconto e tra l'altro ha detto che ha trovato la luce accesa la luce accesa a casa io devo andare in pubblicità volevo ringraziare Edoardo io devo andare in pubblicità poi sono in chiusura di pagina magari mi dici qualcosa in velocità dopo quando rientro va bene? 30 secondi ritorniamo va bene allora Edoardo in velocità siamo tornati dalla pubblicità velocemente cosa volevi aggiungere? sì allora non so se sì in base a quanto abbiamo se vogliamo chiudere il discorso diciamo che facevamo prima della borsa che faceva anche la dottoressa Marano o se vogliamo diciamo appoggiare un attimo Claudio che ci voleva aggiungere una cosa in base a quanto abbiamo aggiungi con Claudio aggiungi con Claudio due cose velocissime due cose velocissime primo lei veniva da me soprattutto all'ultimo mese perciò gli ultimi due martedì si è fermata a casa mia a sei ore non può stirare sei ore avrà stirato mezz'ora dico avremmo fatto qualcos'altro negli altri cinque ore e mezza domanda rapporto già consolidato insomma un'altra cosa importante della quale io ho già chiesto a Sebastiano spiegazione come mai lei Liliana il giorno 5 di gennaio è stata trovata qua in questo boschetto intatta con addosso sacchetti bianchi e cordino soprattutto cordino proveniente da casa sua oltre al fatto che la sua borsetta è tornata a casa lei è uscita con la borsetta con documenti e tutto e la borsetta con documenti e tutto è tornata a casa perché quella che aveva qua purtroppo era vuota allora una va via da casa senza niente neanche un soldo o un documento voglio dire qualcosa Tonia torna la borsa gira tanto no no volevo dire appunto che tutto quello che ha detto è grottesco è fantasioso è surreale cioè siamo purtroppo partiti da un concetto da una teoria precostituita ovvero del suicidio lì siamo andati a finire alimentando poi tutti i presupposti della teoria stessa del suicidio quindi ci ritroviamo senza giustizia e verità e con contraddizioni aspettiamo la risumazione a questo punto speriamo che anche appunto nel contempo rifacciano i punti che ha richiesto il giudice non il magistrato o gli investigatori da rifare che deve essere sviluppate anche tante curiosità diciamo come le lezze grazie grazie per essere stato con noi grazie a voi e speriamo che veramente si possa fare presto luce su questa morte speriamo grazie ciao Gabriella grazie grazie ciao allora adesso grazie a tutti